Grazie Filippo per la parola, grazie a voi per la pazienza e per l'attenzione che da dichiarata a questo argomento. Magnesio è un minerale abbastanza diffuso sulla crosta terrestre, siamo al 2%, 25 grammi di magnesio nel nostro corpo. Abbiamo carenze di magnesio molto diffuse nella popolazione ma siccome danno dei problemi subclinici spesso sono sottostimate per la loro importanza. Uno studio francese chiamato Suvimax ha visto una presenza di un deficit di magnesio nel 77% della popolazione femminile e nel 72% della popolazione maschile. A questo si aggiunge il fatto che un sottogruppo di popolazione, che è circa il 18%, ha una predisposizione genetica a una perdita eccessiva di magnesio. Le nostre abitudini alimentari sono cambiate nel corso del tempo e il rapporto calcio-magnesio nella dieta è cambiato dal paleolitico ad oggi riducendosi di circa 5 volte. Se poi pensiamo che una dieta di junk food, di cibo spazzatura, è praticamente priva di magnesio, il rapporto calcio-magnesio raggiunge i 15% favorendo patologie cronico-degenerative come l'aterosclerosi e l'infiammazione. Il nostro fabbisogno di magnesio è facilmente quantificabile, l'hanno fatto diverse istituzioni internazionali e varia dai 50 mg al giorno dei lattanti fino ai 400 mg delle donne in gravidanza, che sono una delle fasce di popolazione che ha più bisogno di magnesio in assoluto. Più che parlare di un livello di assunzione di magnesio, consigliato di fabbisogno, è meglio parlare di un range, perché i valori di assorbimento sono molto variabili e anche il fabbisogno dipende dalle nostre attività, dalle nostre abitudini di vita che sono molto diverse. Perché si va in carenza di magnesio? Le motivazioni sono veramente tante. C'è un ridotto assorbimento, una difficoltà di assorbimento, di stoccaggio, e una perdita eccessiva anche per motivi legati all'uso di farmaci. Bruno Brigo, che ha fatto un bel volume sul magnesio, diceva che il magnesio è praticamente scomparso dalla nostra alimentazione sia perché è carente nella frutta e nella verdura rispetto a quella coltivata in maniera naturale, sia per i metodi di cottura che, come diceva il professore, sono molto aggressivi. Questo ci porta a un deficit giornaliero, che anche questo è variabile, ma può essere quantificato nell'ordine dei 100-120 mg al giorno. Noi ne assorbiamo circa il 50% di quello che assumiamo con l'alimentazione, il resto viene perso col sudore, l'urina e con le feci. L'assorbimento avviene quasi esclusivamente nella parte terminale del digiuno e nel colon per due meccanismi che sono di diffusione passiva legate a delle proteine paracellulari di giunzione serrate chiamate TJ e questa diffusione passiva è assolutamente fisica, non è regolata in nessun modo, ma esiste anche una diffusione attiva mediata da proteine di canale che dipendono dal livello di magnesio presente. Quindi quando il magnesio è sufficiente questi canali un po' si chiudono per farne assorbire un po' meno. Questo è anche uno dei motivi per cui è veramente difficile andare in ipermagnesemia. La difficoltà di assorbimento è legata a vari fattori, tra cui uno dei più importanti è la disbiosi intestinale, ma anche alcuni fitati presenti nell'alimentazione, alcune proteine vegetali, l'alcol per esempio, riducono l'assorbimento di magnesio. Dicevamo prima della Vicky Gat, della disbiosi intestinale come fattore fondamentale di riduzione di assorbimento. Ovviamente la disbiosi limita l'assorbimento di tanti nutrienti, tra questi c'è anche il magnesio. Lo stoccaggio avviene soprattutto nello scheletro e soltanto, questa è una cosa fondamentale, dei 25 grammi di cui vi parlavo, soltanto la parte ionizzata è biologicamente attiva. Quindi quando parleremo fra un attimo di riserve vitali di magnesio dobbiamo fare riferimento solo alla parte ionizzata, che è quella veramente a nostra disposizione. Il riassorbimento, dal filtrato glomerulare noi riassorbiamo quasi tutto il magnesio e vediamo come diuretici dell'ANSA o tiazidici che sono frequentissimamente usati come antipertensivi possono favorire l'eliminazione renale di magnesio. Sono tanti i farmaci che aumentano l'eliminazione o inibiscono l'assorbimento. Tra questi i farmaci che sono usati in maniera generale dalla popolazione, questo è uno studio pubblicato su British Journal of Medicine in cui si può vedere che partendo da una ipomagnesemia importante la sospensione del farmaco inibitore di pompa protonica dato per problemi di gastrite portava a un immediato innalzamento della magnesemia sospensione, di nuovo abbiamo un carico col farmaco che fa abbassare di nuovo la magnesemia. Quindi una relazione proprio causa-effetto fuori da ogni dubbio. Questa è un'equipe di oncologi dell'ospedale di Treviglio guidata dal dottor Sandro Barni che ha fatto una meta-analisi su anticorpi monoclonali anti-GFR usati nei tumori dell'addome e non solo. Vediamo che in tutti gli studi analizzati è presente un'ipomagnesemia, un deficit di magnesio da moderato a grave. Quindi dicevamo inibitori di pompa, gli antiacido, gli anticorpi monoclonali, i diuretici. Se mettiamo solo questo, da causa di iatrogene abbiamo un numero molto alto. Ma poi non parliamo solo di patologia, parliamo della fisiologia. Gli estrogeni e il progesterone facilitano la perdita di magnesio soprattutto nella fase dell'ovulazione e nella fase della mestruazione. Ma le carenze di magnesio si possono misurare con una facilità estrema. Se qualche medico ha fatto esperienza di medicina d'emergenza sa bene come il magnesio certe volte risolve delle situazioni veramente importanti. I valori di magnesia sono tra 1,3 e 2,4 mg di L o 0,5 e 1 se lo misuriamo in nanomoli. La valutazione nel siero è preferita rispetto al plasma perché è più sensibile. Possiamo valutare il magnesio nelle 24 ore e certe volte vediamo delle perdite abnormi che non sono evidenziate invece dalla valutazione del magnesio sierico. Quindi se vogliamo fare un bilancio dobbiamo sapere quanto ce n'è circolante ma anche quanto ne stiamo perdendo perché certe volte si possono sottovalutare delle situazioni. I sintomi li vediamo con una frequenza incredibile. Il tremore dell'orbitale quando trema la palpera il paziente che è messo così comincia a tremare il polpaccio il tremore del tricipite ecco queste clonie ma anche fattori diciamo legati all'emotività quindi l'iper-eccitabilità nervosa la difficoltà a prendere sonno il bruxismo acufeni, tinniti cioè siccome questo è dovuto a un fatto fondamentale il magnesio è un coenzima di 350 enzimi di 350 reazioni biologiche quindi una carenza di magnesio si sente a tutti i livelli del nostro metabolismo dalla sintesi dell'ATP alla sintesi del DNA della RNA produzione di proteine bilancio ionico sintesi dei neurotrasmettitori eccitabilità cellulare vediamo la sintesi della DNA che è magnesio dipendente la sintesi dell'energia è magnesio dipendente produciamo meno energia con carenza di magnesio la duplicazione cellulare avviene in maniera imperfetta la sintesi dell'RNA avviene in maniera imperfetta stesso discorso bilancio ionico la proteina di canale sodio-potassio è magnesio dipendente quindi una carenza di magnesio poi alla fine diventa insufficienza di pompa ionica e ritenzione di acqua questo è esattamente quello che succede prima delle mestruazioni e in gravidanza dove il feto assorbe molto delle riserve naturali di magnesio della mamma sintesi dei neurotrasmettitori relatori qualificati prima di me hanno parlato dell'importanza della serotonina del ruolo della serotonina della sua importanza per una sensazione di benessere e ricordo che il magnesio il ferro e lo zinco e le vitamine del gruppo B sono cofattori importanti nei passaggi che vanno dal triptofano alla serotonina e poi dopo la melatonina quindi vediamo spesso diamo come medici gli inibitori di ricaptazione della serotonina per favorire la presenza di serotonina a livello intersinaptico e poi non ci preoccupiamo che questa serotonina sia veramente prodotta quindi stesso discorso per le catecolammine dove magnesio e zinco sono magnesio e zinco e vitamine del gruppo B sono cofattori importanti recettori GABA anche qui il magnesio ha un'azione simile a quella dei barbiturici della cannabis dell'alcol quindi un effetto calmante ma questo è noto i recettori NMDA che favoriscono l'espulsione del magnesio e l'entrata del calcio con la depolarizzazione dei canali anche qui il deficit di magnesio provoca una iper-eccitabilità neuromuscolare quindi una maggiore eccessiva facilità alla contrazione muscolare e questo lo vediamo con le clonie i crampi e a livello di pelle iper-eccitabilità dei mastociti i dermografismi tendenze allergiche quindi cos'è che vediamo? che il magnesio ha una tendenza a dare una quando esce dalle cellule entra nel plasma va in circolo ci dà un'azione calmante ma lo liberiamo e lo perdiamo quindi quando lo stress si protrae noi andiamo ad attaccare le nostre riserve corporee di magnesio e questo è il concetto c'è un circolo vizioso adrenalina perdita di magnesio per azione calmante perché il nostro corpo reagisce ci vuole calmare ma questo ci fa perdere magnesio e questo ci rende più iper-eccitabili ok a livello di apparato cardiovascolare questo poi può portare un aumento della frequenza cardiaca della pressione e un aumento della coagulazione e si è visto già da 25 anni fa che personalità del tipo A che sono più attive più competitive possono avere una perdita di magnesio maggiore rispetto a persone che sono tra virgolette più tranquille più tranquille l'ingestione eccessiva di magnesio non ci deve preoccupare anche a 3-5 grammi al giorno il massimo che può venire è una diarrea l'unica eccezione è il paziente compromesso renale dove l'ipermagnesimia può diventare un problema anche grave quindi stiamo parlando comunque di dosaggi veramente molto molto alti rimediare alle carenze è facile con queste tre semplici soluzioni che sono modificare lo stile di vita cioè la gestione dello stress abitudini ambientali corrette e un'integrazione intelligente vediamo cosa intendiamo la gestione dello stress è stata ampiamente discussa possiamo trovare fonti naturali di magnesio nell'alimentazione cioccolato fagioli rossi in alcune piante medicinali tra l'altro hanno fonti di magnesio abbastanza sono veramente fonti ricche di magnesio possiamo pensare anche a un'integrazione intelligente cosa intendiamo con integrazione intanto deve essere un dosaggio sufficiente se ne diamo troppo poco non serve a nulla dottorabilità deve essere buona e in altro tra l'altro possiamo aggiungere dei cofattori che possono aiutare il magnesio a esplicare la sua azione andando da una scala di biodisposizione disponibilità i sali inorganici sono molto poco assorbiti c'è chi parla di l'1% il 5% in realtà quindi i carbonati ossidi solfati dice ah ma c'è tanto magnesio ma poi ne assorbiamo l'1% o l'2% gli organici piccolati pidolinati il citrato il glicerofosfato sono molto più assorbiti l'EFSA ha detto l'organismo europeo di controllo alimentare ha detto che i bisglicinati sono delle fonti molto disponibili di magnesio c'è una correlazione diretta tra biodisponibilità assorbimento e tollerabilità è chiaro è molto semplice il magnesio che non viene assorbito arriva nell'intestino modifica l'equilibrio ionico e porta diarrea quindi la causa più frequente di effetti collaterali da magnesio inorganico che arriva al 40% sono la diarrea e il dolore intestinale le fonti organiche danno effetti collaterali paragonabili al placebo la taurina aiuta la taurina che è il cui metabolismo è legato indissolubilmente alla vitamina B6 può facilitare l'azione del magnesio rendendolo meno fissandole alle cellule quindi impedendo contrastando la perdita cellulare di magnesio qua segnalo il fatto della stabilizzazione di membrana che può aiutarne il suo uso insieme al magnesio come neuroregolatore ecco è un magnesio fissatore l'Italia è un caso anomalo a livello europeo perché in Italia abbiamo tantissimo uso di magnesio insieme al potassio come riequilibratore idrico salino negli altri paesi europei solo questo concetto è finito negli altri paesi europei questo non avviene probabilmente se noi analizziamo a livello epidemiologico il potassio non è così carente come si pensi e i riequilibratori magnesio e potassio sono indicati per chi ha una sudorazione veramente importante altrimenti io suggerirei un'integrazione solo di magnesio che è molto più sicura ed è supportata dalle evidenze epidemiologiche riassumendo il magnesio è un minerale indispensabile per la vita è sottovalutato perché appunto le carenze sono spesso subcliniche non danno delle patologie ma danno dei disturbi che spesso non sono correlati alla carenza di magnesio il medico per eccellenza dell'emergenza sa l'importanza del magnesio che gli risolve dei casi spesso che sembrano senza via d'uscita vi ringrazio molto per la vostra attenzione grazie a tutti grazie a tutti